Altri 20 giorni di tempo per evitare il fallimento di messi in ambiente. Il Tribunale posticipa l'udienza fissata per venerdì 15 settembre al 4 di ottobre. Ieri la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, chiamata ad esprimersi sulle due delibere che impegnano Palazzo Zanca a pagare 30 milioni di euro per i prossimi sei anni a cobertura del maxidebito contratto con l'Agenzia delle Entrate. Atti importanti perché legati al piano concordatario che la società ha presentato in Tribunale per scongiurare quel fallimento che l'amministrazione a Corinti vuole evitare ad ogni costo. Sul fronte della Messina Servizi oggi doveva essere il giorno della firma dei primi contratti per i lavoratori, quelli ex Ato 3, come del resto aveva annunciato la scorsa settimana l'assessore a legge della cittadina Daniele Alacqua. Poi ci siamo dati come scadenze il 13 settembre per la firma dei contratti dei primi lavoratori che sono di Ato 3 che passeranno a Messina Servizi Bene Comune. Ma la decisione del Tribunale di posticipare l'udienza fa tirare un sospiro di sollievo e slittare anche questo passaggio che comunque dovrebbe essere consumato entro e non oltre la fine di settembre. Alacqua questa mattina ha scritto alla SRR dalla Regione per chiedere ulteriormente chiarimenti sull'applicazione della legge 9 del 2010. Il Comune avrebbe voluto procedere con il trasferimento diretto dei lavoratori da Ato e Messina Ambiente alla nuova società, ma la normativa invece indica un'altra strada da seguire, per l'appunto quella della SRR. Il Commissario Ettore Ragusa da tempo ha chiesto di produrre tutta la documentazione necessaria. Vedremo se adesso si riuscirà a sbloccare l'impasse che tiene col fiato sospeso oltre 500 lavoratori. Grazie. Grazie. Grazie.